Una delle domande più frequenti che mi viene fatta, soprattutto ai primi anni delle superiori, è ma gli esseri viventi sono formati da atomi o da cellule? Qual è la differenza tra le due definizioni? Che cos'è un atomo e che cos'è una cellula? Non è una domanda così stupida. Prima di tutto bisogna pensare alle dimensioni dell'uno e dell'altro. E poi, per semplificare, possiamo dare questa spiegazione. Ogni essere vivente è formato da cellule. Tendenzialmente organismi come l'essere umano sono formati da miliardi di cellule. Queste stesse cellule sono formate a loro volta da molecole, cioè degli insiemi di atomi che vanno a costituire tutte le parti della cellula e anche tutti gli organelli che si trovano dentro la cellula. Quindi la cellula è come se fosse un macro-universo contenente tantissime molecole. Le molecole, come abbiamo già detto, a loro volta sono costituite da atomi, cioè due o più atomi legati insieme vanno a formare una molecola. Se questi video ti sono utili, lascia un like e vai a visitare il canale La Biologia per Tutti su YouTube, dove troverai altri video inerenti soprattutto alla biologia, ma anche alla chimica e alle neuroscienze.